Uno dei libri che ha lasciato una traccia intelebile è che ha segnato poi tutto il mio percorso di scrittore o anche di lettore soprattutto quando mi sono confrontato con la scrittura narrativa quando ho posto l'attenzione e il legame tra letteratura e vita ebbene questo libro che mi ha segnato in modo particolare è stato il Cantico dei Candici e soprattutto nella cura, nella interpretazione se vogliamo di Guido Ceronetti Al di là della questione biblica, letta già molti decenni fa credo che la lettura di Ceronetti edita poi successivamente per la casa editrice Adelphi ha segnato, come dicevo, una risestimazione all'interno di un processo che è un processo letterario da me vissuto, processo umano ma è un processo che lega la visione antropologica con quella religiosa è il canto supremo dell'amore in cui la carnalità diventa confronto con la immaterialità e credo che questo sia un dato significativo, pregnante di questa visione in cui gli amanti l'amata e l'amato diventano un'unica cosa un'unica fissionomia che è una fissionomia in cui il grande amore ha una sua forza spirituale all'interno di una metafisica la cui metafisica nasce proprio da questo rapporto amoroso che è il rapporto quasi ontologico tra l'essere e il dare l'essere e il dare il cantico dei cantici di Salomone rappresenta ancora oggi una delle tappe focali in cui questa dimensione quasi scatologica diventa una filosofia metafisica in una dimensione onirica quindi vedete un po' come si legano gli aspetti la letteratura il sogno la filosofia per dire che il rapporto tra il concetto di materialità e di immaterialità si incontrano e ciò che emerge alla fine ciò che esplode in questo cantico in questi cantici è appunto l'unione e la sensualità tra due esseri e tra due corpi la mia vigna è soltanto mia tenti i tuoi mille sicli Salomone tenetevede duecento voi guardiani tu che siedi in gloriosi giardini ascolta la mia voce fammi la tua sentire o amato mio che fuggi come la gazzella o il cerbiatto appari sulle alture odorose questa è la chiusa dell'ottavo canto dei cantici che ci offre la possibilità di penetrare in quel mondo che è il mondo anche esoterico se vogliamo in cui il senso onirico diventa sempre più un senso della vita esistenziale è il settimo canto chiude tra i frutti acerbi e i maturi dietro la porta per te un nascosto quando c'è di più ricco amato mio si nota come c'è questo trasportare i chicchi delle parole tra un amato e un amata la cosa straordinaria di questo canto che non smette mai di essere metafisico fino in fondo ma sensuale nel profondo di essere